è un mercato a tre no, non è vero niente oi se non è che ha tendito io no, scambi là spiff, l'anno ö厲害 chi viene? stage 3 Welcome to Stage 3 Di tayo nakapiata Baka nating naman tayo sa abuka Ano ngayon mo nga? Yung doon sa Youtube Yung baka ang entrance nya Ang entry, entry nya Ang entry dito Oh Ang entry dito Did you hear that? Wollai Sussi Gend conserva Di tayo, no Ya ben Behere Sì, è l'ultima. ok l'alman stage straight i slicks and rump ok dito tayo sa anga saan? dito tayo dalasco black dito tayo sa anga saan dito tayo sa anga doa ga mekase to neishio nema kontan doa ga mekase to neishio Sì, cross line! Passo, bolletta! Sì, cross line! Saan la bayo tadaan? Sì, cross line! Sì, non sì! Sì, non sì! Ding, ding! Pupontà! Haha! a presto